Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Una nuove ry gol, interesse suono ed il 2GB che fa. Motive y a dottoneята, metri a vittى. Supera per quanto soitto? Qua qui viene originale? Qua quiACKA? Allora di rizzer mano? Sì, 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 sì. Sì, 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 yes, sì. Sì, 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 sì. Oh, sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Miggamen in ciao a tutti. Fuii sò, no, no. Adesso naza i ringo. Oh, yes, change so. Ah, no, no. Sì Sì, lo soppiam, che piacciono? Dio... 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 oppure Sì, è la possibilità, perché la linea si è quieta. Passi alla ragazzi ha coi qui diventa. Otra al mara. La sara è roto l'altra parà. Non stai ferma il meno, non stai ferma. Non stai ferma! Non stai ferma. 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 Non stai ferma perciò che… Aspetta Noi Sì 生きてて草! いやー ここからだと 穴上は見えなくて ユウコ ダウンか ミックスが…え? やったんじゃない? え? え? えぐい! えぇー! ミックスさぁ? えがぁー ねぇなぁ 俺 煙引いたわ ウォロタスも煙吹いたけど あいうち 俺こっちも煙引いた ちょっとオースで 待って じゃあ俺タイルは いけー かぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ! これさぁ 四乗犯いる?きた ふっっっす おっほほほほほ… どこ...地面狙ったの? どこ狙ったの? んんまっ これさぁ ガソスターの修理場起頭心いてほしいな Sì, è il giusto. E' il giusto? E' il giusto? E' il giusto? Ok. Ma l'intera, ma l'intera. Ma l'intera, ma l'intera. E' 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 Grazie a tutti! . Ma... . 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 si lo si mi no farm si te so you armor talka o toriki se creerli hai da cara ma sono kenino un uccio e si voto